musica 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 è lì sulla copertina della rivista che parlo è lì chi è? boh ai quali mi si sarà scritto non mi dico solo sarà un'attrice che cosce che fianchi un vero monumento un'attrice o un monumento? un'attrice o un monumento? un'attrice svedese non è di fare non è di fare non è di fare non è di fare se le pagate e i sindacati lo sanno tutti queste che si conquiste oh i bravo ma sono bravo e voi non abbiamo conto perché non l'abbiamo conto e va un fine a come che ha visto un gattino un gattino un gattino un gatto non ha ancora cresciuto sapete cos'era un gatto una bestiazione venosa con la conda, i banchi che fa bravo Ma perché oggi c'è una ragazza che ha avuto in tempo e non è se faccio un gattino? Ma non è questione di avere tempo! Se un gattino ti fassero l'acchi, lo vedi? Sta andando da mangiare quando è arrivato un cane ed è scappato. Il cane? Il cane! Ehi, non lo sai che ti fa? La bella! Bisogna un capore! E che dov'è cominciare a fare il capore? E' un'altra mezza! Ah, dei tempi! Ehm, proprio bene! I tempi perché avevamo vent'anni! Senti, dove? Cosa? Dove è? Hai presente? Al 607 hai presente dove c'è la fermanza dell'auto? Ah, si, bene! Senti! Io invece è anche dove? Ehm, come è... Soprima da dove il supermercato! Eh, io sono finito qui a livello, come via si vede proprio con il letto, lo vedi a sedere? Cosa diavola? Allora? Allora? Non mi dici niente? Non mi dici niente? Non mi dici niente? Non mi dici niente? Non mi dici niente! Mi sei scuffato della mia compagnia? Mi sei scuffato della mia compagnia? Perché metti quella di una bella giottina? Ehm, ti metti la ferma? Ti metti a sedere? Avanti! E ecco! L'espaldato! Ehm, aspettava come un innamorato! Ehm, ma non è da dove è? Da nel giro! Il signor Luca era poco infatti da che lei si fosse sentito male e che fosse stato ricoverato in un ospedale! E io cercavo di tranquillizzarlo, ma lui era di un pessimismo! Dove è stato? Fuori fuori contro i miei Il viaggio di un piacere? Il signor Romano non avrebbe risponduto Alla parte delle ragazze hanno detto a me Gli avete avessuto Ma non è giusto che l'abbia fatto stare così in pensiero? Gli avete messo la parte dei figli Potevi perdere il sale Trattano male No, non è che trattano male Ma che non serve nessuno Come un vecchio e basta Come un vecchio e giù Maledetto Grandi camerate Come in caserno Solo che in caserno ci sono soldati E sono giovani Allei che risani Lì c'è solo gente Che tossisce Che spunti Che si lamenta Che ti guarda con due occhi Uomini Uomini Tutti brutti Tutti vecchi Io ho pensato di essere diversi E invece Sono brutti Sono vecchi Un vecchio La prima notte La prima notte del letto Vicino al mio C'era uno C'era uno che si è sentito male Il mattino dopo Vedo un paramento Dietro c'era lui Morto C'erano altri C'erano altri Che erano stati mandati lì Dai loro figli Per qualche giorno E nessuno era tornato a prendere Non aveva la notizia della famiglia Da mesi Da anni Dio Io raccontavo come che succedesse La stessa cosa Anche a me Scusami Rosco E l'hanno lasciato lì In deposito Con una valigia Perchè 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 Mi vergogniamo E Tua figlia Eh E Magari Perchè 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 E Perchè 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 Vedi cosa La paglia Ambra Avvolta in uno sciare Spensierata e leggera Si aggira giocosa Da quei parti Fra poco Entra il signor Monca Con un panchettino Metà A prendere Il signor Il signor Ambra Il signor Ambra Sparito Un'altra volta Un'altra volta A presto A presto Di controllo Un sacco Un'altra Un'altra dopo una visita di controllo è morto è morto infarto autobus investireva un autobus e pensava che poi mi intervira il dottore, il riconenco, pensava benissimo era un dottore e come si è farsi controllare che credo ti giuro guarda se non fossi così vecchio te lo giuro io scapperei e perché non lo fai? dove vuoi andare? beh, come sono? posso scappare con te? e perché volete scappare? per stare insieme per non lasciare un discorso e non vedere più la frase di me nuovo sì, per non seguire tutte quelle gattive parole mamma del gattino fai la nanna fai la nanna fai la nanna bel gattino della mamma fai la nanna bel vicino poi ti mangi un topolino il signor paglia il signor paglia ansioso guarda continuamente l'orlogio non riesce a stare fermo fai la nanna ben vicino con la mamma tua vicino ma si illumina ma si illumina di un grande sorriso quando viene arrivare il signor bocca con la vanigia trafelato ma di nuovo non riesce a stare fermo non riesce a stare fermo non riesce a stare fermo